E' stato pubblicato ed è consultabile online l'aggiornamento al 31 dicembre 2015 dell'osservatorio sull'applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale. Nella decima legislatura sono stati finora presentati 612 atti di indirizzo, di cui 255 approvati, 100 respinti, 53 ritirati e 204 non esaminati. Dal monitoraggio risulta che su un totale di 255 ordini del giorno e mozioni approvati, 24 siano stati conclusi, 201 non attuati, mentre 30 sono in corso di attuazione.